Premier League, ufficiale e la chiusura anticipata del mercato dal 2018 Giornata di svolta per la Premier League e, probabilmente, a breve, per tutto il mondo calcistico europeo. I club hanno infatti votato a favore della chiusura anticipata del calciomercato estivo, il Deadline Day non sarà quindi più il 31 agosto come d'abitudine, o il primo settembre quando questo cade durante il weekend, ma ben prima, per la precisione il giovedì prima dell'inizio ufficiale del campionato, alle ore 1700 locali, le 1800 italiane. Una svolta voluta probabilmente soprattutto dagli allenatori, con Arsene Wenger a guidare il gruppo, più volte il tecnico alsaziano si era espresso in favore di questa tesi. Chiaramente l'emendamento riguarda solo ed esclusivamente il mercato in entrata inglese e non ha ripercussioni sulle altre leghe. La prima applicazione di questa nuova regola è in programma già dalla prossima stagione, 2018-19, il calciomercato estivo chiuderà giovedì 9 agosto, 22 giorni in anticipo rispetto al solito. Ciao! Ciao!